Sono partiti ufficialmente i saldi invernali. Come da consuetudine stamane la Sicilia e la Basilicata sono le prime regioni a dare il via all'acquisto scontato. Domani sarà la volta della Valle d'Aosta, mentre giovedì prossimo, 5 gennaio, inizieranno gli sconti in tutte le altre regioni d'Italia. Secondo la previsione di Confcommercio saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping con una spesa di circa 133 euro a persona e un giro di affari di 4,7 miliardi di euro. Ogni famiglia spenderà in media 304 euro. Stimiamo una crescita dei saldi di oltre il 10%, dice il presidente nazionale di Federazione Moditalia Giulio Felloni, che sarà più utile alla liquidità piuttosto che ai guadagni, che confidiamo possono arrivare dalla rinnovata fiducia che i consumatori ripongono con sempre maggiore frequenza nei nostri negozi, orientati verso future strategie legate alla sostenibilità e all'innovazione. Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, intanto, la Federazione Moditalia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base per evitare spiacevoli sorprese. Innanzitutto la possibilità di cambiare il capo dopo l'acquisto, la discrezionalità e del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, se ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore, però, è tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Poi oggetto di grande dibattito, soprattutto in questo periodo, il metodo di pagamento. Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti con la carta piuttosto che i soldi in contanti. Molta attenzione bisogna avere inoltre nei confronti dei prodotti in vendita che vengono proposti in saldo. Questi devono avere carattere stagionale o di moda ed essere sottoposti ad un notevole depreciamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Infine, concludono la Federazione Moditalia e Confcommercio, l'obbligo del negoziante è di indicare il prezzo normale di vendita. Lo sconto è il prezzo finale.